Immagina che il place of your dreams is a library where every book is a moment you treasure. Denis Pasqualin, presidente dell'azienda di promozione turistica Valsogana Lagorai. Il Natale si avvicina ma non solo. La neve, Giro d'Italia, quante cose fate in Valsogana? Bene, buonasera a tutti. Siamo qua pronti già ad accogliere i nostri turisti in Valsogana. La stagione invernale si sta per aprire, anche se in realtà le belle stagioni dell'autunno ci hanno portato veramente delle giornate stupende e la possibilità di far visitare la Valsogana tanti turisti che sono venuti. Adesso siamo pronti con i mercatini di Natale. Siamo partiti lo scorso weekend con il mercatino di Natale nella città di Pergine. Da questo weekend parte il mercatino di Natale anche nella città di Levico all'interno del favoloso parco asburcico delle Terme. 50 casette dove i nostri turisti potranno non solo assaporare la gastronomia locale ma anche acquistare tanti prodotti di artigianato locale. E poi abbiamo comunque il nostro comprensario sciistico della Gorai e abbiamo la possibilità non solo di fare sci da discese ma anche sci da fondo, sci da alpinismo, bellissime ciaspolade, lo sci da alpinismo in montagne incontaminate. Ricordo sempre che la Valsogana è la prima destinazione al mondo certificata GSTC per il turismo sostenibile e che è un filone che ci sta dando grandissimi vantaggi dal punto di vista turistico perché ha messo assieme questo grande connubio del residente che rispetta il territorio e del turista che viene accolto dallo residente stesso in un luogo incantato. E poi come si diceva prima, arriveremo alla primavera con il secondo valno consecutivo, il passaggio del Giro d'Italia. Quindi anche per il 2023 siamo pronti a raccogliere una tappa del Giro d'Italia nella città di Pergine che andrà ad aprire la stagione primaverile. Beh, complimenti, sicuramente è una grandissima stagione, se però non c'è la vostra. Ma noi siamo ottimisti, speriamo che la neve arrivi copiosa e quindi le nostre piste, i nostri paesaggi siano incantevoli. Noi siamo pronti a raccogliere i nostri turisti, siamo ottimisti perché c'è tanta voglia di Natale, c'è tanta voglia di feste, c'è tanta voglia di venire in Valsogana. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.